Nel corso di un'attività info-investigativa, gli agenti della squadra mobile di Torino hanno appreso dell'esistenza e diversi acquisti anomali di diamanti e oro da parte di due facoltosi imprenditori. Questi simulavano di essere titolari di un'importante società di intermediazione finanziaria, società realmente esistente, di cui due non facevano parte e di cui avevano clonato l'home page del sito della società inserendo un numero di telefono da contattare per informazioni. Quell'utenza telefonica corrispondeva all'odierno arrestato. In uno dei servizi di osservazione, l'investigatore hanno scoperto che due imprenditori erano in trattativa con un comproro nella provincia di Torino per procedere all'acquisto di 520.000 euro in ingotti d'oro. Il sistema collaudato era sempre lo stesso. Erano soliti giungere gli appuntamenti su autovetture di alta gamma a noleggio con conducente. Pagavano regolarmente alcuni ordini di preziosi del valore di centinaia di migliaia di euro con bonifici dall'estero per conto dei clienti della società per poter ottenere la fiducia degli acquirenti prima di consumare la truffa con il metodo Rip Deal. Grazie alla loro abilità sono riusciti a alludere i controlli effettuati dai commercianti d'oro con il database a loro disposizione. Lo scorso 27 giugno due truffatori si sono presentati dal venditore d'oro per completare la trattativa. Secondo gli accordi, i lingotti sarebbero stati pagati in parte con bonifici esteri e in parte con bonifici che avrebbero fatto la presenza del commerciante all'interno di istituti di credito. Ne hanno quindi fornito copie di un bonifico di circa 80.000 euro, risultato poi falso, mostrato di 200.000 euro in contanti, perfetti facsimile, per convincere a seguirli con i lingotti d'oro con intenzione di sottrarli. Mentre stavano per uscire dal locale commerciale, sono intervenuti le agenti della squadra mobile.